Ciao Bricconcelli, benvenuti in un nuovo makeover. Oggi il protagonista è Young Signorino. Il suo vero nome è Paolo Caputo, è nato nel 1999 e si dedica alla musica trap. Ultimamente ha ottenuto notorietà con due singoli in particolare, Mhahaha e Dolce Droga. Mi limito a dire che è un personaggio controverso, diciamo, e probabilmente ne avrete già sentito parlare, perché tantissimi youtuber gli stanno dedicando parodie e video. Tra questi ci sono Scottex, Cartoni Morti, Yei Hazel, Non fa ridere e Matteo Fumagalli. Hanno creato contenuti divertenti e interessanti, che mi hanno ispirata. Questa trasformazione non è un cambiamento di genere e prevede due fasi. La prima è un natural look, dove elimino i tatuaggi e cambio la pettinatura. La seconda è un look da modello. L'intenzione in questo caso è semplicemente ottenere un risultato più radicale. Inoltre la posa mi faceva venire in mente una foto stile rivista di moda. Per questo lavoro ho usato, come sempre, Photoshop CC 2017 e ho impiegato ben due ore e mezza. Però sono soddisfatta del risultato e spero piaccia anche a voi. Fatemi sapere chi vorreste vedere nelle prossime puntate. In descrizione trovate le informazioni sulla musica. Ora ve la lascio ascoltare meglio. Ci sentiamo alla fine. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.